E allora ci siamo Marco Miss Stella dello Stretto 2017 è Monica Motta Seconda classificata, bellissima anche lei Lidia Patanè Assessore premiamo cortesemente Lidia Con il numero 16 Consegniamo anche la stella di Miss Stella dello Stretto Passarella anche per te Lidia Complimenti Bellissima E adesso il palco è tutto Per Miss Stella dello Stretto 2017 Monica Motta Stella E allora faccia stella di Aghema Signori per voi Miss Stella dello Stretto 2017 Io direi che è giusto e doveroso far sfilare tutte e cinque le Miss arrivate per così dire sul podio quindi prego ragazze Ultima sfilata per voi quantomeno per questo 2017 qui a Miss Stella dello Stretto Un ultimo giro di bellezza per la passarella di Piazza Italia Miss Sorriso Sara Manino Miss Fascino Maria Luisa Mazza Terza classificata, Chiara Siciliani Seconda classificata, Lidia Patanè Miss Stella dello Stretto 2017 Monica Motta Sì